Erano 10 milioni di euro, siamo arrivati quasi 14 mi sembra, insomma non abbiamo fatto ancora i conti, però più o meno è stato questo. E poi dopo l'aspetto tecnico è stato secondo me buono, non dico eccezionale, dico buono perché per non esagerare abbiamo costruito una squadra giovane e competitiva. Per cui ci riteniamo soddisfatti, in più abbiamo abbassato quasi il 50% il mondo ingaggi, che tutti quanti voi, l'anno scorso mi rimprovarate che avevamo gli ingaggi troppo alti, per cui abbiamo cercato di abbassare il mondo ingaggi, per cui siamo soddisfatti tutti quanti, la società, l'amministratore, tutto, la proprietà. Penso si è fatto un buon lavoro, la proprietà che tante volte è bistattata, però sono anche loro tifosi, per cui ha detto stiamo costruendo qualcosa di, non dico di importante, qualcosa di una... Abbiamo puntato su di lui, l'allenatore ha puntato su Donati, se andiamo a dare Donati il castello viene a cascare. L'abbiamo levato sul mercato, solamente che loro sono andati addosso al ragazzo. E' lì la cosa bella che ci è piaciuta a noi tutti, all'allenatore, a me, alla proprietà, che il ragazzo non ha fatto... ha detto io rimanco... A me mi piaceva, cioè come giocatore che l'ho avuto, che ci credo molto, per me Caccia è più forte il giocatore, per questa categoria è un giocatore che ti può fare la differenza. Però c'erano due... apparteneva a Lecce, c'era una situazione economica importante e non si è potuto fare, però sinceramente di tutto quello che si è fatto sono strafelici, siamo anzi strafelici e ripeto, è una squadra che può dire la sua. C'è da dire che Padoa, Torino e Sampdoria hanno qualcosa in più di noi e delle altre squadre. Dopo queste tre squadre dico che il Bari se la può giocare tranquillamente per raggiungere degli obiettivi. Perché sono arrivati giocatori di qualità, giocatori di qualità e di esperienza e ne avevamo bisogno, quindi sono soddisfatto per il lavoro che ha svolto il direttore e la società. Non ho provato fino alla fine, c'è stato qualche rifiuto, però fino alla fine il direttore ha provato a portare l'attaccante che desideravo. Però non volevo che si prendesse un attaccante tanto per prenderlo, quindi preferisco tenere i miei, che ritengo degli attaccanti bravi e che sono convinto che faranno bene. Soprattutto mi riferisco a Marotta, ha fatto gol in tutte le categorie e sono convinto che farà gol anche in questa categoria. Anche Caccia ne avevamo parlato, a me andava bene anche Babagar. E poi c'erano altri, però non c'è stata la possibilità di prenderli. Ma poi cercavamo un giocatore per caratteristiche, a me non mi piace la punta statica, quindi mi piace la punta di movimento. C'era la possibilità di prendere qualcun altro, se non sbaglio, direttore, come Lucarelli. No, questa è un'idea pazza. Eh, è un'idea pazza. Però per caratteristiche non preferisco giocatori più di movimento, di profondità, veloci. Può dare la possibilità di variare anche a partita in corsa, che vuol dire cambiare il vertice. Invece del vertice basso, si può fare il vertice alto. Però queste poi sono situazioni che magari durante la partita, lui può giocare benissimo a mezza alla sinistra, come può far benissimo il trequartista. No, l'idea è molto chiara, dall'inizio. Ho fatto delle, abbiamo fatto delle scelte, quindi non rientrano nei nostri programmi, sarà così da qui alla fine. Ma come diceva il direttore, credo che Padoa, Sampdoria e Torino hanno qualcosa più di noi, però dopo queste tre squadre ci siamo noi.